Assessore Rampazzo, parliamo della riqualificazione del velodromo Monti. C'è un progetto, ci sono i finanziamenti, quindi si parte? Sì, diciamo che me lo sono preso a cuore questo progetto quando lo scorso anno, circa un mese dopo che ero diventata assessore, sono andata ad una gara invitata dalla Faggin, la società di ciclismo che gestisce il velodromo, e mi hanno chiesto se è vero che il velodromo Monti sarà buttato giù, al che mi sono un attimino preoccupato, ho detto come è possibile un monumento storico di Padova che possa arrivare a questo. Allora, fatto passare un po' di tempo, ho saputo che quest'anno ricorreva il centenario del velodromo, ho chiesto al sindaco perché non vedere anche di ristrutturare un po' questo, perché avevo visto le condizioni della pista, era abbastanza messa male, in più non funziona l'impianto elettrico, i fari per la sera. Quindi sono questi gli interventi primari, giusto? L'illuminazione e la pista? L'illuminazione, sì, lungo la pista e il rifacimento della pista con una particolare resina che resisterà ai vari cambiamenti e temperature atmosferici e non più in cemento. Il sindaco mi ha detto, sì, è una cosa buona, visto che ricorreva anche il centenario, ho fatto questa proposta alla dottoressa Bastianello e al presidente Finotti della fondazione, sono rimasti entusiasti poi del progetto che ho presentato di riqualificazione e un mese fa circa mi è arrivata la telefonata del presidente Finotti che mi garantiva un contributo di 180 mila euro. Il comune ne metterà altri 120 e riusciremo a concludere così questa ristrutturazione.